TGS, l'informazione di Studio 90 Italia. Il minorenno intorno alle 4.45 del mattino ha avuto un'accesa discussione con l'uomo al termine della quale ha estratto un coltello della tasca del giubbotto col pendolo al torace. Il ferito soccorso e medicato all'ospedale di Caltagirone se l'è cavata con una ferita all'emito erace e 15 giorni di prognosi. E a Siracusa invece un colpo di pistola esploso da un bambino di 11 anni ha preso alla tesso il fratellino di 9 anni. Stavano giocando a casa del nonno quando intorno alle 18 del pomeriggio di ieri hanno trovato una carabina. Il più grande accidentalmente ha sparato contro il fratello minore causandogli una ferita da piombino. Il bambino è stato portato all'ospedale Umberto I di Siracusa. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della squadra mobile che hanno eseguito una perquisizione nell'abitazione del nonno dei bambini, il 49enne Giuseppe Rasizzi, già conosciuto alle forze di polizia. In casa sono state trovate e sequestrate la carabina d'aria compresso con 25 piombini calibro 4,5 e una pistola calibro 7,65 con 52 cartucce. Rasizzi è stato arrestato in fragranza di reato di detenzione illegale di armi comuni da sparo e denunciato per lesioni personali colpose. Dopo le formalità è stato posto agli arresti domiciliari. I carabinieri della sezione tutela patrimonio culturale di Siracusa hanno recuperato un dipinto del Settecento Olio su tela raffigurante la Madonna. Il quadro di cui da tempo si erano perse le tracce era stato rubato nel 2007 dalla parrocchia Santa Maria della Consolazione di Masca Lucia. Il recupero del pregevolissimo dipinto è avvenuto grazie al costante monitoraggio del mercato antiquariale. La comparazione delle immagini di alcune opere poste in vendita da un esercente catanese con quelle contenute nella banca dati dei beni culturali ha reso possibile accertare che il dipinto in esame era proprio quello sottratto alla chiesa etnea circa 11 anni fa. Dalle indagini inoltre non sono emerse responsabilità a carico dell'antiquario il quale aveva regolarmente acquistato il dipinto da una donna catanese che è stata invece denunciata per ricettazione. Un'operazione congiunta tra la procura di Roma e Messina ha portato alla Guardia di Finanza ad effettuare 15 arresti per due associazioni a delinquere dedicate alla frode fiscale, reati contro la pubblica amministrazione e corruzione in atti giudiziari. Tra i fermati anche Giancarlo Longo, ex PM della procura di Siracusa, l'avvocato Piero Amara e gli imprenditori Fabrizio Centofanti ed Enzo Bigotti, quest'ultimo già coinvolto nel caso Consip. E cambiamo argomento, situazione di estremo pericoloso abbandono nella zona industriale di Catania. La denuncia arriva dal presidente della Commissione Patrimonio al Comune di Catania, Salvatore Tomarchio, e non si possono lasciare gli imprenditori sole a gestire emergenze di questa portata. Detto in un'area vasto come una cittadina di medie dimensioni non c'è pubblica illuminazione, acqua corrente, strade in condizioni decenti. Oggi l'intero sito deve fare i conti con vie gruviera, serpaglie e carenze di sicurezza. I primi interventi di quasi 130 mila euro per rispondere all'emergenza idrica da parte dell'IRSAP può essere un segnale da tenere in considerazione. Sentiamo, Salvatore Tomarchio. Ci siamo occupati parecchie volte nella zona industriale, abbiamo fatto parecchi sopralluoghi. Purtroppo non è stato fatto nulla di concreto. Io credo che bisogna intervenire soprattutto per rivalorizzare la zona industriale fiore all'occhiello della città di Catania negli anni 80-90, soprattutto per valorizzare e dare posti di lavoro a una città che soffre in maniera pesante. Ed è tutto, da Letizia Carraro un saluto a tutti voi, buon procedimento di serata. Abbiamo trasmesso TGS, l'informazione di Studio 90 Italia.